Esiste nel panorama politico extraparlamentare italiano una fascia di neofascismo a cui noi gentilmente affibbiamo il prefisso di neo che perpetua gli stessi meccanismi ideologico-culturali che c'erano tra gli anni 20 e 30 del secolo scorso. Prima di tutto sono movimenti dichiaratamente fascisti, orgogliosamente fascisti e per cui la nostra opinione è che la Costituzione e le leggi ordinarie ci permetterebbero già di promuovere lo scioglimento di questi movimenti, cosa che il Partito Democratico chiederà formalmente domani con una mozione urgente in Parlamento. Grazie.